ho finito la ho finito la camera gas eh bravo qualcuno l'ha pagata è passato nel giallo no ce n'è due vai luigi tira su questa è casa ma casa guarda che è lui che timbra domani non provi da lì eh perché qualcuno è passato ma lei ha tre qui non l'ha messo giù neanche uno no si è arrivato avanti la cosa ricordate vai bravo riprendi che la mia è finita non mi sono portato le altre che miseria dopo lo facciamo con questo non 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 Vai! Ormai troppo tempo che non le faccio io, troppo tempo! Guardate che adesso non fai di qua, perché non fai di qua? Effettivamente! Qua fai la S e non ti viene a fermare! I primi ne hanno fatto di lì comunque! Beh perché è più fattibile! Sai cos'è che devi stare attento a questo attore! Dopo comunque sei già dritto, non devi fermarti, spostare e ammazzarti! Questo aveva messo due, se non sbaglio!